Ora Rieti a caccia dell'allenatore. Infatti sono ore decisive per Fedeli e l'allenatore Beoni, che dovrebbe rimanere alla guida del Rieti. Il matrimonio forse si farà, ma ancora delle questioni devono essere risolte. Il piano B è comunque dietro l'angolo. Infatti, qualora Beoni dovesse divorziare da Fedeli, la società punterebbe su un mister Pino Perazzoli. Intanto si sta facendo il punto sul piano societario. La famiglia Fedeli resterà al timone con la maggioranza azionaria, in attesa di capire chi sarà il sostituto del vice Riccardo Curci. Sul fronte giovanile, invece, riconfermati i responsabili Simone Onesti e Gennaro Isaia.